Notte in bianco prima degli esami Sì, sì, ma io tra mezz'ora me ne vado a casa, se no domani non ci si sveglia D'annunzio, sicuro, perché è ben voluto dal governo Sì, io scommetto su D'annunzio Io penso che uscirà a Svevo, perché cento anni ci siamo Allora, la Costituzione, giravoce D'annunzio Giravoce D'annunzio, eh, avete sentito? D'annunzio, sì All'attuale governo di centrodestra, l'ho sentito, eh? Abbiamo fatto tante ipotesi, diciamo, con la classe, però pensiamo Forse Svevo, probabilmente, D'annunzio, Manzoni Comunque speriamo ce la mandi buona, insomma Sicuramente sono i cento anni da... È l'anniversario della coscienza di Zeno Dal 1923-2023, quindi sicuramente mi aspetto Svevo È uno che aspetto E poi, forse per la tema di attualità, forse la morte della regina Elisabetta Oppure la guerra in Ucraina, no, non lo so Secondo me esce Svevo Sì, secondo me esce Svevo Esce Svevo Manzoni e Svevo Manzoni e Svevo Io dico che esce Manzoni Io ho studiato solo Manzoni, quindi spero che esce Manzoni La mia speranza è questa Poi si vedrà a qualsiasi cosa